Ben trovati con lo sport, due stili differenti, lo stesso obiettivo, dimostrare al mondo della noble art chi merita di vestire la corona civil WBC di Cruiser. Silvio Branco e Giacobbe Fragomeni si affronteranno il 29 giugno prossimo per stabilire finalmente chi è il più forte. Domani pomeriggio alle 16 all'hotel Grif di Roma la conferenza stampa di presentazione dell'appuntamento targato AMB Events e OP2000. A Pavia finì pari, arriva del Garda, vinse il Pugile di Milano ai punti. Ora la terza sfida, la resa dei conti, un match che arriva dopo la rista da Salun che coinvolse alla fine dell'ultimo incontro gli enturaggi dei due contendenti, i quali però rimassero a margini di quel vergognoso episodio costato ai protagonisti squalifiche da record. Il 29 sera avremo comunque due campioni. A prescindere da come finisca, Silvio Branco e Giacobbe Fragomeni rimarranno due dei più grandi pugili italiani di sempre. Chi finirà con il braccio al cielo se la vedrà con il vincente di Wodarchik e Chekhev, in palio la corona regina della WVBC. Terminato il campionato di rugby per la dirigenza del CRC, che è stato condannato alla retrocessione della serie cadetta alla Serie C. E ora tempo di gettare le basi per la stagione 2013-2014. Nonostante la retrocessione, non considero negativa la stagione appena conclusasi, visto che c'è stata una crescita tecnica tangibile sia nella prima squadra che in tutto il settore giovanile. Ha sottolineato Memmo Nastasi, presidente della società reggbistica Civitavecchiese. Per la prossima stagione abbiamo riconfermato nella prima squadra mister Michele Fabiani, che ci darà una mano anche nel settore verde. Inoltre abbiamo investito molto su Giampiero Granatelli, che è il nostro nuovo direttore tecnico e che metterà al servizio di tutta la nostra società tutta la sua grande esperienza e permetterà alle nostre squadre giovanili e alla prima squadra di fare un salto di qualità. A lui abbiamo dato pieno mandato per stilare il nuovo organigramma, con cui affronteremo la prossima stagione. Nel weekend a Rieti ancora societari assoluti, questa volta in versione femminile. Tra le oltre 20 squadre presenti e le oltre 500 atlete a scendere in pista anche la compagine Civitavecchiese della Tirreno. Il primo giugno la Dispoli ospiterà una gara nazionale di triathlon. Alla manifestazione parteciperanno oltre 350 atleti provenienti da ogni parte d'Italia. Ma questa era la nostra ultima notizia e il nostro telegiornale si conclude qui. Grazie dell'ascolto e arrivederci alla prossima edizione.